Il 25 ottobre 1441, nel Duomo di Cremona, il capitano di ventura Francesco Sforza, al soldo del duca Filippo Maria Visconti, sposò sua figlia, Bianca Maria Visconti. In realtà queste nozze furono solo l'ultimo episodio di un attento gioco di strategia tra lo Sforza, i Visconti e le città nemiche di Milano, come Firenze, Roma e Venezia. Francesco Sforza era figlio illegittimo del capitano di ventura Muzio Attendolo, dettolo lo Sforza. Il soprannome del padre derivava dalla sua particolare abilità nel cingere d'assedio, ovvero sforzare, le città nemiche. Francesco, nato a Cigoli di San Mignato, oggi provincia di Pisa, trascorse l'infanzia e l'adolescenza tra Firenze, Ferrara e Napoli, dove ricevette una raffinata educazione umanista. Si sposò una prima volta con la calabrese Polissena Ruffo di Montalto, divenendo in questo modo feudatario di Rossano Calabro, Policastro, Montalto e Paola. Qui ebbe come segretario Angelo Simonetta, diplomatico calabrese, che ebbe profonda amicizia con Francesco. Ma la moglie morì dopo solo un anno mentre dava alla luce il primo figlio. Raggiunse quindi il padre, con il quale combatté, a fianco del papa, contro Braccio da Montone e contro gli Aragonesi. L'alleanza col papa produsse l'amicizia con gli Angioini e l'acquisizione dei feudi di Rende, San Fili e altre città calabresi. A ventitré anni, Francesco si trovò a capo dell'esercito pontificio, dopo che suo padre morì annegato nel fiume Pescara, mentre tentava di salvare un ragazzo portabandiera in pericolo di vita. Nonostante la giovanità, Francesco in pochi mesi sbaragliò i nemici, assicurando agli Angioini il trono di Napoli. Dal 1425 fu al soldo di Filippo Maria Visconti e nel 1427 andò ad abitare presso la parrocchia di San Marcellino, in porta Comasina. Ma problemi disorganizzativi, gelosie, disunità tra gli alleati portavano allo sforzo a subire alcune inevitabili sconfitte contro i veneziani. Poiché il Duca mal sopportava la bravura di Francesco, dopo pochi anni, pubblicamente, non li rinnovò il servizio. Ma in realtà segretamente lo inviò lontano, in Toscana, per riportare sotto leggi da milanese Lucca, cosa che Francesco fece con abilità. Nel 1432, dopo aver sconfitto i veneziani a Cremona, il Duca diede in fidanzamento sua figlia allo sforza. Francesco aveva 31 anni, Bianca Maria ne aveva solo 5. Forte dell'appoggio visconteo, lo sforza attaccò il Papa, conquistando per sé quasi tutte le Marche. Il Duca ebbe quindi paura dello sforza, e li tolse sia il suo appoggio, sia la fidanzata bambina. Francesco sforza si alleò quindi con Firenze e Venezia, ma senza però troncare i rapporti col Duca. D'altronde, nel 1440 lo sforza perse i feudi calabresi, e aveva necessità di entrate economiche stabili. Il Visconti doveva capire che sarebbe diventato un alleato fedele se avesse sposato sua figlia. E alla fine il Duca, in evidente difficoltà militare contro Venezia, cedette. Bianca Maria convolò a nozze con Francesco. Grazie al matrimonio lo sforza divenne signore di Cremona. I rapporti tra genero e suocero furono burrascosi, perché Filippo, ormai paranoico, cercava sempre di eliminare i potenziali nemici, Francesco compreso. Provò a farlo uccidere, ad assediare le sue città, a creare leghe antisforzesche, ma senza successo. E nel 1447, come visto nella puntata numero 39, Filippo Maria Visconti morì, con lo stato di Milano in piena decadenza e senza guida. Questi erano i pretendenti alla successione. I francesi si consideravano eredi del Ducato, perché Valentina Visconti, figlia di Giangaleazzo, aveva sposato il Duca d'Orléans. Gli Aragonesi, invece, si facevano forti di un presunto testamento di Filippo Maria in loro favore. I Savoia si sentivano eredi, perché la moglie di Filippo era Maria di Savoia, figlia del Duca Amedeo VIII. E poi c'era Francesco Sforza, l'unico ad aver sposato una discendente di Filippo, ossia la figlia Bianca Maria. C'erano poi i giuristi dell'Università di Pavia, che sostenevano che il titolo Ducale dovesse essere rimesso nelle mani dell'imperatore Sigismondo, in attesa di sue decisioni. E probabilmente avevano le ragioni legali per sostenere questa affermazione. Ed infine c'erano i nobili milanesi, francamente esasperati dalla politica suicida e schizofrenica degli ultimi duchi, che aveva comportato tasse, crisi del commercio, dell'artigianato, assenza dei raccolti, e morti, tanti morti, il fiore della gioventù aristocratica e borghese sia della città che del contado. E furono proprio questi nobili a proclamare la Aurea Repubblica Ambrosiana, capitanata da 24 famiglie, tra cui i Cotta, i Tribulzio, i Bossi, i Lampugnani, i Vitali e da un certo Vitaliano Borromeo. Costui era figlio del ricco padovano Giacomo Vitaliani e di sua moglie, Margherita Borromeo. Per la morte prematura di Giacomo, l'italiano fu adottato dallo zio, assumendo il cognome Borromeo. Ricca famiglia di banchieri, provenienti da San Mignato, erano però originari di Roma, da cui il loro cognome, i Buoni Romei. Con la Repubblica Ambrosiana, i Borromei fecero il loro ingresso nella élite politica della città. Viste le premesse, in questa Repubblica, di democratica c'era ben poco, come peraltro accadeva nella Repubblica di Venezia, anche se la base legislativa era affidata al Consiglio dei Novecento. Si trattava di un'assemblea, nata nel XII secolo, che ebbe comunque una certa importanza in tutto il Medioevo milanese, tanto da legittimare formalmente i poteri dei signori di Milano. Il Consiglio, come dice il nome, era costituito da ben novecento persone, provenienti e scelte dalle assemblee parrocchiali della città. In pratica, ogni parrocchia di Milano sceglieva alcuni uomini che avessero almeno vent'anni, che fossero ricchi e di buon nome. Non era necessario essere nobili. Inutile dire che il Consiglio dei Novecento era un vero caos, dove il clientelismo e gli interessi familiari di parrocchia o di categoria erano occasione di continui scontri interni. Le cose per la neonata Repubblica iniziarono però subito male, perché, appena proclamata la Repubblica, molte città lombarde ed emiliane si consegnarono ai veneziani o si proclamarono indipendenti. Grazie. Grazie.